musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyudean e ragazzi innanzitutto grazie 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 di cuore per avere guardato in tantissimi il video di questa mattina che parlava di una possibile data ufficiale o meglio probabile del pan di zenzero se non l'avete ancora visto sono dei concetti che abbiamo tirato fuori io quello che succede su twitch youtube e fabione e abbiamo recuperato in realtà ragazzi abbiamo fatto su una storia e sembra che la data la saprete nel video di questa mattina ma ovviamente ragazzi leak e le immagini che vi proponiamo per forte non sono assolutamente terminati ragazzi ci sono delle grandi news per quanto riguarda nuovi oggetti personalizzabili e veramente veramente rarissimi molte news anche su due nuove skin che potrebbero arrivare prestissimo uno sembra una fan ma in realtà mi confermano che è stata trovata lì nei file di fortnite come al solito quando la girano e ragazzi troveremo e vedremo invece un bug incredibile che è apparso a un mio amico un ragazzo che viene qua in live che mi ha mandato subito lo screen e che potrebbe mostrare ragazzi una delle nuove skin non sappiamo se di battle royale o di salva il mondo allora ragazzi partiamo subito a parlare dei nuovi oggetti che arriveranno prestissimo per tutti i possessori i giocatori cinesi di fortnite a loro ragazzi come sapete tencent che è praticamente l'azienda che ha le quote maggioritarie di supercell e di epic games ha anche un suo client privato per e gaming sul pc vi spiego meglio tutti sappiamo tutti conosciamo ovviamente steam ad esempio ci scarichiamo da steam realm royale per dire steam che cos'è è un programma tra virgolette che tu scarichi sul pc ed è stra pieno di giochi gratis e a pagamento e giochi gratis sono comunque bellissimi realm royale è gratis ed è meraviglioso ui game ragazzi ve lo faccio vedere questo è questo sono io questo sono io un momento che ve lo faccio vedere ragazzi di qua eccolo qua we game in poche parola ragazzi non è altro che il client ufficiale di tencent questo è il loro sito http2.com noi possiamo cliccando sul bottone giallo questo scaricarlo come vedete ci scarica we game sul pc noi se vogliamo lo installiamo senza preoccupazioni ci basta semplicemente cliccare sul tasto giallo dargli l'accesso e lui adesso voi non lo vedete lui installerà il gioco se mi date un secondo ve lo faccio vedere così siete più felici anche voi di vederlo no non ve lo faccio vedere perché mi dà problemi a farvelo vedere ma non vi preoccupate in questo client ragazzi tra pochissimo è esattamente il 24 luglio uscirà fortnite per pc per i china che ancora non hanno il piacere di giocare a fortnite e che cosa succederà ragazzi oltre a ricevere fortnite chi utilizzerà wii game avrà anche diritto ad avere ragazzi 321 santa tatata guardalo qui ragazzi il uno dei nuovi oggetti ragazzi uno shield veramente meraviglioso utilizzabile come backpack per i nostri personaggi o già me lo sto vedendo sulla schiena del mio vichingo non vedo l'ora di vedere questo bellissimo scudone ragazzi ovviamente noi cercheremo il modo di poter associare il nostro account di epic games anche con wii games proveremo magari con degli account fake tra virgolette per vedere se si rischia o meno il ban qualora la cosa dovrebbe funzionare questo vorrebbe dire che tutti potranno ottenere questo scudone che è veramente meraviglioso ma non solo ragazzi guardate qua un altro backpack che non abbiamo ben capito perché perché dovrebbero metterlo e a che skin soprattutto è il backpack di un pinguino ragazzi lo chiamano addirittura penguin skeleton quindi scheletro pinguino a me sembra semplicemente un pinguino normalissimo e attenzione ragazzi anche un nuovo deltaplano questo ci viene regalato direttamente dai nostri informatori questo è di fabione le altre immagini di quello che succede su twitch e youtube e questo ragazzi è il deltaplano che verrà inserito insieme agli oggetti che arriveranno con wii game ragazzi qualcuno mi dice addirittura che il pinguino potrebbe essere il logo di wii games io sinceramente non lo sapevo quindi ragazzi ovviamente rimanete sintonizzati sul canale se volete poi scoprire sperando esista ma credo che esista il metodo per poter ottenere questi tre oggetti e ad averli anche noi europei ma ragazzi attenzione mi tengo mi tengo mi tengo perché quando mi tengo ragazzi è molto pericoloso è stato trovato da un utente che si mi chiama giuseppe se non ricordo male ha fatto uno screen velocissimo guardate che cosa gli apparso ragazzi lui si chiama dark rosic 04 guardate raga guardate c'è una skin mai vista in fortnite è arrivata proprio così è andata via subito non sappiamo se sia una skin di salva il mondo o di battle royale potrebbe essere una skin della next week ragazzi è un eroe di salva il mondo sarà un nuovo eroe di salva il mondo ci dicono noi un po lo sospettavamo comunque nuova skin nuova skin di salva il mondo qualcuno ci dice che è un bug comunque noi ve la proponiamo ragazzi sempre bella da vedere ma attenzione perché le news non sono assolutamente finite qua ragazzi state pronti perché è stato pescato un'altra coppia di skin che non sappiamo se possano essere una delle due la controparte di della skin maschile di quella gratuita per xbox io ve la faccio vedere ragazzi guardate che roba la faccia del bombarolo lucente ragazzi ma la felpa è assolutamente nuova mai vista potrebbe essere la skin femminile di xbox free non lo sappiamo ancora ragazzi non lo sappiamo ancora c'è da dire che è veramente meravigliosa come skin anche se io non apprezzo le skin femminili questa è molto molto carina e per chiudere in bellezza ragazzi per fare proprio la ciliegina sulla torta ragazzi guardate che cosa abbiamo trovato questa invece me la prendo quella che sto per farvi vedere anche se fosse non penso sia leggendario dovrebbe essere epic come skin ragazzi ma guardate che roba proat sembra una fan art ma è stato confermato che non lo è ragazzi questa è stata trovata nei file di gioco ragazzi è il dal burgo man ragazzi testa da panino lingua penzolante ovviamente stile fortnite con parastinchi a livello del ginocchio bellissimo il gilettino scritto credo c'è scritto dur se non ricordo se non se vedo bene fatemolo ingrandire c'è scritto dur c'è scritto e ci confermano non essere una fan art ragazzi quindi tutti questi sono link che potrebbero rivelarsi e che si riveleranno probabilmente ufficiali ragazzi io vi ringrazio davvero tantissimo per avere guardato questo video un bel pollicione in su se vi è piaciuto e mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale noi ci vediamo stasera in live ciao